Santa Vergine addolorata a Luz de Maria Umanità ha un soffio dal subire gravi e grandi eventi In questo momento cruciale per l'umanità, la Madonna, parlando alla Veggente Luz de Maria, rivolge il suo cuore e la sua voce a noi, amati figli. Con profonda compassione e amore materno, ella si accinge a condividere con noi un messaggio di grande importanza e urgenza. Le parole che seguiranno portano con sé il peso del dolore e della speranza, richiamando ciascuno di voi alla riflessione, alla conversione e alla preghiera. Che le nostre anime possano essere pronte ad accogliere questa chiamata divina, e che il suo amore ci accompagni lungo questo cammino di crescita spirituale e redenzione. Leggiamo il messaggio Amati figli del mio cuore immacolato Come una madre prego ciascuno di voi, figlioli, di prepararvi a cambiare vita da un momento all'altro. L'umanità è a un soffio dal subire gravi e grandi eventi, già preannunciati dal mio figlio divino, da questa madre e dal mio amato San Michele Arcangelo. Alcuni dei miei figli non vedono i tentacoli della guerra, che arrivano silenziosamente causando dolore e terrore attraverso il terrorismo. Pregate figli miei, pregate per l'America, questa nazione ha bisogno di conversione. Pregate figli miei, pregate per l'Europa, figlioli pregate. Il firmamento si sta oscurando, i figli del mio divin figlio illumineranno con le loro lampade accese con l'olio migliore. Pensano che tutto sia lontano. La sofferenza dei miei figli continua. Convertitevi, guardate i segni e i segnali con il cuore. Convertitevi, convertitevi, figli miei, convertitevi. Figlioli, non disprezzate i miei avvertimenti. Unitevi, amatevi e aiutatevi a vicenda. Vi benedico, vi amo. Madre Maria 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 Madre Maria